Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora Zelensky è come quei bambinetti stupidi ai quali piace giocare con le armi pericolose e a loro non importa nulla perché non comprendono i danni che possono fare agli altri, l'importante è che loro si divertono. Ecco, sembra un po' essere questo Zelensky nel momento in cui gli americani e non solo gli hanno messo in mano i missili di lunga gittata che possono quindi colpire in territorio russo Putin. E quello che ha fatto ultimamente si diverte molto a centrare i gasdotti che appunto ci sono in alcuni luoghi al di là della frontiera fra Ucraina e Russia. Peccato che appunto questo stupidotto non si renda conto o meglio forse si rende conto ma non gliene importa assolutamente nulla che questo automaticamente va a incidere sull'economia e basta che andate a vedere i listini del gas aumentati in questi ultimi giorni dal 5 al 10% e le conseguenze le vedremo ancora una volta in autunno-inverno. E chiaramente andando avanti di questo passo il prezzo aumenterà sempre di più arrivando a quello che era successo agli inizi del conflitto nel 2022. E noi cosa facciamo, noi europei, noi italiani, i governi di questi paesi? Noi continuiamo ad aiutare Zelensky. Tra l'altro cosa volete che a lui importi se il gas aumenta o no? Anche perché gli americani hanno appena fatto uno stanziamento di altri 65 miliardi di dollari da inviare a Zelensky. Quindi lui si diverte a fare il guerra fondaio, non gliene importa assolutamente neppure se muoiono bambini e civili, anziani ucraini. L'importante è vincere questa guerra contro Putin, l'importante è accontentare il padrone americano. Chissà poi per quale torna conto. Questa è esattamente la situazione perché francamente non vedo diversamente, non so come diversamente si potrebbe fare questo racconto. Per il resto la guerra, lo sapete, come sta andando ormai i territori conquistati dai russi, ma non perché lo dico io che potrei essere considerato un complottista, ma perché lo dicono grandi analisti dei conflitti in giro per il mondo, che è praticamente impossibile che l'Ucraina riconquisti i territori persi. E quindi a cosa mira semplicemente Zelensky? Mira semplicemente appunto a fare quei dispettucci, a mettere in pericolo la stabilità in quell'aria e dell'economia a lui non importa assolutamente nulla. Non importa se i prezzi aumentano, non importa se il gas arriverà ai livelli del 2022, perché non ne paga le conseguenze, anzi viene aiutato. Io adesso voglio vedere quello che farà il governo italiano, ma soprattutto quello che sarà la reazione, la posizione della politica e dei politici italiani. Perché ovviamente di fronte ad una situazione del genere, che debba essere il popolo italiano e altri popoli ovviamente dell'Unione Europea, a pagare queste conseguenze, Io credo che questo, oltre al danno, si possa considerare anche un'autentica beffa. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane e se continuerà questo giochino da parte di questo fuori di testa di Piotr Zelensky. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.